Per il ciclo risate all'italiana Un appuntamento da non perdere con Adriano Celentano Ma cos'hai capito? Ho capito che ti va di stare con me E ti sei sbagliato Un colpo di fulmine Tra mille esilananti avventure Viaggio di nozze Venezia, Trieste, Mozzi Adriano Celentano Quando litigo con me stesso sono tremendo Urnella Muti Ci potremmo sposare solo se... Innamorato pazzo Stasera 21.15 Rete 4